Mi volevo un attimo agganciare al discorso del Presidente dell'Accademia della Crusca per quanto riguarda il pregiudizio linguistico circa stepchild adoption che è lo stesso pregiudizio linguistico per cui ormai in Italia un parrucchiere si chiama hair stylist o un estetista si chiama nail artist. E' lo stesso pregiudizio linguistico che poi ci porta magari a un'identificazione di quel determinato mestiere con un'altra parola che lo tende ad esaltare ancora di più di quanto sia. Come per esempio un icotecnico, stiamo parlando sempre di un estetista che magari fa la manicure. Io ho fatto, forse per paura di essere giudicati, per paura di sottolineare ancora gli strati sociali, non so come poterlo dire. Io nella mia esperienza ho fatto dignitosamente e con grande orgoglio il cameriere dentro a un locale per tanti anni ma non ero assolutamente un bar manager. Ho fatto il cameriere con grande degnità e mi è servito per realizzare quelli che erano i miei scopi. Prendevo lo stipendio e lo portavo negli studi di registrazione per pagare le persone che mi facevano registrare le canzoni. Quindi spesso si ha paura di non essere accettati. Credo sia questo uno dei problemi principali alla base di tutto ciò. Allora vediamo.